Ho fatto tipo una maratona di interviste da questa mattina ma è raggiunto il momento per condividere sì vabbè i media, sì vabbè i giornali, sì vabbè ma tutti questi gialli che vedo, tutti stai mi permettono di essere qui ancora e continuare a scrivere, a condividere con voi tutto questo non è che ho tante parole io, grazie per essere qui, spero di dedicare e di dire grazie a tutti voi uno per uno adesso quindi prima cominciamo e meglio è, dai, grazie